quella sera d'inverno il cielo era nuvoloso ero sul treno che partiva da Yokusuka seduto in un angolo di un vagone di seconda classe e attendevo distrattamente il fischio che annunziava la partenza in quella carrozza illuminata da luci già accese ero l'unico passeggero guardai fuori ma non c'era anima viva nemmeno vicino ai binari solo un cane rinchiuso in una gabbia ogni tanto la trava malinconico era incredibile ma quella scena corrispondeva appieno al mio stato d'animo di quel momento una stanchezza e una noia indefinibili mi gravavano addosso come il cielo coperto che minacciava neve ero lì le mani ben ficcate nelle tasche del mio soprabito senza neanche la voglia di tirar fuori il giornale ma quando alla fine il fischio arrivò avverti un vago sollievo e con la testa appoggiata al finestrino attesi pazientemente di vedere la stazione scorrermi via davanti agli occhi poco prima di partire però mi giunse all'orecchio un rumore di geta che sembrava provenire dall'atrio poi dalle porte di quella carrozza di seconda classe entrò una ragazza di 13 o 14 anni tutta trafilata assieme alla boccia del capotreno che la sgridava in quello stesso istante il treno diede uno scossone e iniziò lentamente a muoversi in un'atmosfera quasi di rimpianto i lampioni vicino ai binari un vagone cisterna lasciato lì come dimenticato un facchino intento a ringraziare un passeggero per la mancia scomparvero tutti oltre il finestrino ormai sporco di nero fumo finalmente tranquillo mi accesi una sigaretta aprì ad agio gli occhi e diede uno sguardo alla fanciulla che intanto si era seduta nel posto di fronte al mio era senza dubbio una ragazza di campagna i suoi capelli secchi erano raccolti a foglia di ginkgo mentre le guance screpolate possedevano un rossore naturale sotto un lembo della sciarpa di lana verde un po' sporca che teneva avvolta attorno al collo spuntava un grosso fagotto mentre appoggiate su di esso le mani gelate stringevano un biglietto di terza classe aveva un viso volgare che non mi piaceva i suoi vestiti luridi mi irritavano ma quel che più mi faceva imbestialire era la sua totale indifferenza alla distinzione tra seconda e terza classe per questo dopo essermi acceso la sigaretta cercai di comportarmi come se non fosse lì sfilai finalmente il giornale dalla tasca e lo aprì sulle ginocchia in quell'istante la luce esterna venne meno e illuminati dalle sole lampade del treno le righe e i caratteri stampati sulla carta mi apparvero molto più nitidi inutile dire che eravamo entrati nella prima delle tante gallerie che punteggiano la linea Yoko Suka feci scorrere lo sguardo sulle pagine del giornale illuminato dalle lampade ma nel mondo succedevano cose troppo banali per placare la mia malinconia problemi legati alla pace matrimoni casi di corruzione necrologi passai in rassegna quegli scialbi articoli quasi meccanicamente quando entrammo nel tunnel ebbe l'impressione illusoria che il treno avesse iniziato a muoversi in direzione contraria come ovvio in quei momenti non ero riuscito a considerare la ragazza che mi sedeva di fronte come la più volgare delle realtà il treno nella galleria quella campagnola gli articoli squallidi cos'erano se non simboli simboli dell'indicibile pochezza e del tedio della vita umana smisi di leggere e gettai via quell'inutile giornale poi appoggiai di nuovo la testa al bordo del finestrino e mi mise a sonnecchiare gli occhi chiusi come quelli di un morto accadde poco dopo improvvisamente mi sentii quasi come obbligato ad aprire gli occhi e a guardarmi attorno la ragazza si era alzata dal posto di fronte al mio e si era spostata vicino a me stava faticosamente cercando di aprire il finestrino ma quel vetro pesante sembrava non voler saperne di alzarsi le sue gote screpolate diventavano ancora più rosse alle mie orecchie giungevano incessanti il rumore di lei che tirava su col naso e i respiri spezzati persino io non potei fare a meno di provare compassione per lei ma nella luce del tramonto il profilo di colline ad orne di scintillante erba secca si avvicinava a entrambi i lati del treno era chiaro che stavamo per entrare in un'altra galleria eppure per chissà quale motivo quella ragazza cercava ostinatamente di aprire il finestrino mi sembrava che lo facesse solo per semplice capriccio così continuai a provare un'antipatia tagliente per lei e rimasi a fissarla con uno sguardo perfido proprio come se sperassi di vedere le sue mani congelate lottare in vano con quel finestrino per l'eternità poi all'improvviso si sentì un rumore spaventoso nello stesso istante in cui il treno era entrato nella galleria la ragazza era riuscita ad aprire il finestrino dalla fessura rettangolare entrò una fuligine nera che impregnò subito l'intera carrozza di un fumo soffocante non feci nemmeno in tempo a mettermi un fazzoletto davanti al viso che venne travolto dall'ondata di fumo io soffro di mal di gola per cui tossì così tanto che quasi mi mancò il respiro ma la ragazza non sembrò affatto badare a me sporse la testa fuori dal finestrino e gordò attentamente nella direzione del movimento del treno mentre i suoi capelli acconciati a foglia di ginko svolazzavano nel vento nero quando la vidi tutta sporca di fuligine sotto la luce delle lampade eravamo tornati all'aperto e se non fosse stato per l'odore fresco di terra erba secca e acqua che entrando all'interno del vagone mi fecero smettere di tossire di sicuro le avrei chiesto di chiudere nuovamente il finestrino e le avrei fatto una bella lavata di capo anche se si trattava di una completa estranea per fortuna il treno era scivolato fuori dalla galleria e aveva superato il passaggio a livello alla periferia di una squallida cittadina stretta fra due montagne ricoperte di arbe secche nelle vicinanze si ammassavano anguste l'una accanto all'altra alcune catapecche dai tetti di paglia e tegole mentre una pallida bandierina probabilmente agitata dal casellante sventolava malinconica nel cielo del tramonto in fondo alla galleria al di là della sbarra di quel solitario passaggio a livello scorsi tre bambini dalle guance rosse in fila uno vicino all'altro tutti e tre bassi di statura come fossero schiacciati dal cielo nuvoloso e vestiti con kimono dello stesso lugubre colore di quei sobborghi non appena videro passare il treno tutti e tre alzarono velocemente le mani e allungando i loro colli delicati gridarono con tutte le loro forze qualcosa che mi parve incomprensibile poi accadde qualcosa mezza protesa fuori dal finestrino la ragazza distese le mani gelate e le agitò energicamente di colpo sopra i bambini che salutavano nel passaggio del treno dal cielo caddero cinque o sei mandarini del colore vivido del sole al tramonto quando capì tutto rimasi senza fiato la ragazza era con ogni probabilità in viaggio verso il luogo di lavoro e quei mandarini che aveva tenuto in grembo erano la ricompensa per i suoi fratellini accorse al passaggio a livello apposta per salutarla il passaggio a livello tinto della luce del crepuscolo i tre bambini dalla voce cinguettante e il colore intenso di quei mandarini che cadevano sopra di loro scorsero via dal finestrino in un lampo ma quella scena rimase impressa nel mio cuore in modo quasi doloroso mi resi conto di provare un inspiegabile senso di felicità alzai la testa con orgoglio ora ai miei occhi la ragazza pareva completamente un'altra persona dopo qualche istante tornò a sedersi di fronte a me coprendo con la sciarpa di lana verde le gote screpolate aveva appoggiato il suo grosso fagotto sul grembo e tra le mani stringeva il suo biglietto di terza classe in quel momento per la prima volta riuscì a dimenticarmi per qualche istante della bochezza e dell'indicibile monotono tedio della vita umana grazie a tutti Grazie a tutti.